Vuoi fare una prova? Giusto per capire? Vedete? Ok Wow I vetri vibrano Faremo un nuovo programma E i vetri incominciano a muoversi E a vibrare Siamo sempre alla festa dei 10.000 Del sottoscritto che ormai è stato passato Ma non è il motivo più Principale che siamo qua Siamo qua per fare Musica alla festa Quella bestia Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.